Abbiamo una piccola azienda di 65 ettari in provincia di Crotone, Belvedere e Spinello precisamente, costeggiata dal fiume Lese, dove alleviamo all'incirca 300 capi di pecore di razza sarda, con le quali facciamo direttamente la lavorazione noi del latte, ci lavoriamo il nostro latte praticamente e produciamo da ottobre a fine giugno, tutti i giorni, formaggio ricotta pecorina. Per scelta personale vendiamo il prodotto direttamente, cerchiamo di vendercelo direttamente, sia per una questione economica, per non avere il passaggio al rivenditore, e sia perché ci piace proprio far capire, far conoscere direttamente a chi compra il nostro prodotto, di sapere quello che mangia. Un prodotto biologico innanzitutto, noi lavoriamo artigianalmente, non abbiamo nessun mezzo meccanico, lavoriamo tutto ed esclusivamente a mano.